Raffaele Pronto? Pronto, chi è Raffaele? Eh, chi è? Raffaele, ho Tonino, sono rimasto con la seggia a mezza di scala, ora la mano sta lì, eh. Ma chi è Tonino? Tonino, che è lì, qui viene a base. Come? Qui viene sotto. Tonino, sono con la seggia a mezza di scala, ora la mano non ce la faccio. Ma chi è Tonino, scusso? Tonino, scarti. Come? Scarti. Eh, buonino ma vendiamo. Ma hai capito buono a chiedere a madre? Come? Sposte della fegna. E chi è tu Tonino? Baccio Rione, Berlinghi. Come? Baccio Rione, Berlinghi, di solo a 39. Ah, fino a 9, oggi passiamo. E la ragazza? Metti scala, sto anche sullo cagliato. Ma come scavi, scusso? Tu abbassi, abbassi di scala, lo sai? No, alzano. Alzano, alzano che ti aveva salito, che ci hai fatto un figlio di morte. Ma come ti chiami, con gli occhi? Tagito, scala. Ehi, come hai, non me lo conosci, eh? Eh, non te lo conosci, che scusso? Esci nel birro. Eh, buon, ma mi ha facciato un'esto, io. Ma hai stato in due palazzi, mentre scala. Ah, non puoi stare in due palazzi, perché sono due palazzi, chiuso, scusso. Ma hai da ingaiavo? Sette bu, no? Pronto? Sette bu. Grazie.